C'è sgomento nel volto del sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri. La maxi operazione dei carabinieri su appalti corrotti ha portato tra i nomi degli indagati anche l'assessore comunale all'urbanistica Erika Upizzi e il deputato di Fratelli d'Italia Tommaso Foti, uno degli interpreti principali del centrodestra locale. Stamattina Barbieri ha convocato la riunione di giunta nella quale ha assunto le deleghe all'urbanistica e al demagno che deteneva Upizzi fino alla fine del mandato, cioè ancora per tre mesi, se ne occuperà direttamente il primo cittadino. Upizzi infatti si è dimessa ieri da Palazzo Mercanti e oggi, in una nota affidata al suo avvocato Guido Guglieri, l'ormai ex assessore rivendica di aver svolto il suo ruolo ispirandosi ai principi di trasparenza e giustizia. Upizzi, pur ritenendosi estranea ai fatti, ha preso questa sofferta decisione, così la definisce, per tutelare l'attività della giunta Barbieri. Sono due pratiche, nel dettaglio, quelle che vengono contestate dagli investigatori. Una riguarda una convenzione per un parcheggio a barriera Genova che sarebbe stata redatta a favore del privato, l'imprenditore Nunzio Susino, finito ieri in carcere. L'altra riguarderebbe il cambio di destinazione d'uso di un terreno alla Verza, da agricolo a edificabile. Nella sua nota, però, Upizzi evidenzia che gli atti fondamentali sono stati assunti dalla precedente amministrazione e la convenzione attuativa, sostiene lei, è stata approvata con delibera di giunta all'unanimità, visionata da due direttori generali dell'ente e dal notaio. L'aggancio tra Upizzi e l'imprenditore, a detta della procura, sarebbe proprio il deputato Piacentino Foti, di Fratelli d'Italia, indagato a piede libero con l'accusa di corruzione e traffico di influenze illecite per gli inquirenti. Avrebbe ricevuto 3.000 euro per aiutare un'azienda attraverso i suoi rapporti con l'assessore comunale e collega di partito. La posizione di Foti è oggetto di accertamenti. La procura chiederà l'autorizzazione alla Camera dei Deputati per poter utilizzare i dialoghi intercettati ai quali ha preso parte. Sempre secondo le indagini, alcuni incontri con l'imprenditore Susino, il quale è al centro delle indagini su ipotesi di appalti cuciti su misura, sarebbero avvenuti nella sede piacentina di Fratelli d'Italia nel corso del 2019. Inevitabile, in queste ore, il clima di smarrimento tra i militanti del partito. Resta da chiedersi adesso se la ricandidatura del sindaco Barbieri sia ancora così scontata come appariva nelle scorse settimane. L'amministrazione comunale di Piacenza, lo ricordiamo, è ritenuta del tutto estranea alla vicenda, fatta eccezione appunto per le ipotesi su Opizzi, ma le indagini della procura, senza dubbio, provocano un forte turbamento nel centrodestra, schieramento di cui il deputato Fotti è un perno essenziale sul territorio. Qualcuno sostiene che Barbieri stia riflettendo sulla sua discesa in campo per un secondo mandato, ma non al punto, dice qualcun altro, di fare addirittura un passo indietro.